Sarà inevitabilmente l'argomento che muoverà la politica sangiovanese al ritorno dopo la pausa estiva. Il nuovo piano del traffico rimarrà tra i cardini delle singole discussioni in ogni parlamentino, dopo anche i report dei primi incontri tra Giunta e Coloro, che avevano come cittadini posto domande e singole obiezioni. Nell'ambito istituzionale nuovi chiarimenti poi saranno chiesti dalle opposizioni che già hanno ufficialmente preso posizione contro la novità più importante, ovvero la rotatoria tra due punti. Da questo punto di vista però il progetto è evidentemente di respiro più ampio, anche a livello temporale, dopo che lo stesso Partito Democratico cittadino ha ricordato come strutturalmente potrebbero servire innanzitutto le due mini rotonde in riva destra dell'Arno, all'altezza dei due ponti, con le strutture poi forse propedeutiche poi a rendere un assenso unico ai Lungarni tra Ponte Pazia e Ponte Pertini, assieme al nuovo Marciapiede, sempre inoltranno in via della Resistenza e sul Lungarno Guidoreni. E' quindi ipotizzabile che un nuovo studio sulla maxi rotatoria possa arrivare solo dopo queste edificazioni, ricordando che esiste ancora il progetto anche di una terza rotonda, stavolta all'altezza di Viale Gramsci, in riva sinistra sul Lungarno.